amici di calciomeccato.com ben ritrovati con l'indiscrizione quest'oggi per parlare delle strategie sul mercato della roma la priorità del club giallorosso è quella di riscattare eric mkhitaryan dal arsenal questo perché il nazionale armeno ha convinto lo staff il dirigenziale giallorosso ma soprattutto il tecnico fonseca che lo ritiene fondamentale sia per la roma del presente che per quella del futuro ecco perché tramite il suo agente raiola stanno iniziando le prime conversazioni con il club londinese per provare a trovare un accordo la prima base di offerta è di 15 milioni più 3 di bonus ma la richiesta dell'arsenal è molto superiore intorno ai 24 milioni di euro il club londinese spera di ricevere altre offerte per un giocatore che si è rivalutato assolutamente in giallorosso dopo alcune stagioni in chiaro scuro ma attenzione perché a da londra filtro le indiscrizioni su un interesse concreto dei gangners nei confronti di giustizioni perché come mkhitaryan ha lo stesso agente ovvero minoraia che sta tessendo questa tela importante con la roma non è descludere che l'arsenal inserisca clevert in una trattativa più ampia e staremo a vedere se si giungerà a un accordo ma la certezza in questo in questo momento è che la roma farà di tutto per tenere mkhitaryan anche in vista della prossima stagione a 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